Figlio, figlio mio, finalmente! Quanta gioia mi avete portata! Non basta ringraziarvi. La provvidenza dovete ringraziare che vi ha dato forza e fortuna. All'indirizzo che stava sopra la busta, sono rimasta solo lì, pietra della casa. E che ne sapete? Non esistono parole per darvi un'idea di quello che ho sofferto in questi anni d'inferno. Quante pene, che paura, che tormenta, ma li benedico. Stavone, quando arriva? Può arrivare pure di andare a settimana. Veramente? Ci pensa ancora a quella? Mai se l'è scordata, non era soltanto. Mi ha detto una lettera che ce l'ha portata. A essa? La lettera era per Maria Esposita. Io ce trovo una certa malaspina. Non mi è sembrata degna di leggerla. L'avete vista? Quando ci penso, vorrei quasi che Andrea non tornasse. Eppure io. Ti piace? Assai. Come regalo di nozze dobboli con un anello di brillanti a sta bene, ma io devo regalargli anche una colonna di perle. Una volta era un sogno. Adesso... Don Ferdinale, io mi affido completamente a voi. A sua disposizione, non dubbidi. A proposito, le fedi? Sono pronte. Bisogna solo incidere la data. Bene, arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.